ciao a tutti cari amici del canale ben ritrovati per questo nuovo video unboxing su dr lumis channel diciamo che è un breve video unboxing non voglio dilungarmi tantissimo perché davvero ci sono tantissimi prodotti alle mie spalle non li vedete perché sono appoggiati diciamo sul sul mio divano sono davvero tantissimi quindi riuscire a fare tutti i video unboxing sarà davvero molto dura quindi ho deciso di fare dei video un po più brevi in modo da mostrarvi sempre nel dettaglio tutti i suoi contenuti però senza dilungarmi troppo nella puntata di oggi parliamo di un prodotto uscito in commercio davvero di recente un prodotto targato oblivion fa parte della collana classics ed è praticamente un film di fantascienza girato nel 1983 il film in questione strange invaders io sono rimasto particolarmente soddisfatto quando ho saputo che la oblivion avrebbe cacciato questa pellicola una pellicola che ricordo di aver visto tantissimi anni fa è un film che omaggia molto il cinema di fantascienza tra cui anche pellicole come l'invasione degli ultracorpi insomma pellicole anni 50 nel cast abbiamo anche nancy allen che ricordiamo per varie pellicole di culto degli anni 80 tra cui anche carrie lo sguardo di satana comunque adesso cambiamo angolazione così vediamo nel dettaglio quest'ultima uscita della oblivion allora vediamo più da vicino questa ultima uscita targata oblivion classic qui in alto possiamo notare il cast non ho menzionato michael lerner ma soprattutto non ho menzionato la presenza di louis fletcher protagonista una dei protagonisti del film qualcuno volò sul nido del cuculo quindi un bel cast devo dire pellicola diretta da michael loglin e niente per chi non l'avesse mai visto è un film ambientato verso la fine degli anni 50 quando gli extraterrestri sono scesi a centerville nell'illinois e hanno concluso un accordo segreto con le autorità di governo per sperimentare la possibilità di un pacifico insediamento sulla terra questa diciamo la sinossi di questa pellicola diretta nel 1983 vediamo anche la costina e poi il retro edizione questa della oblivion che comprende anche il commento audio con il regista e con william condon che sottotitolato in italiano poi abbiamo anche il trailer originale e titoli alternativi qui in basso abbiamo i vari loghi della oblivion della umovies e di caffè da brivido per quanto riguarda le tracce presenti abbiamo italiano inglese con traccia 2.0 di tshd master audio formato video 2.35 94 minuti abbiamo anche i sottotitoli in francese e in spagnolo poi vediamo un po l'interno ecco qua quindi disco 1080p e sullo sfondo questa bella immagine abbiamo custodia scanavo e quindi questa è una delle ultime uscite targate oblivion classic strange invaders bene termina qui questo breve video unboxing con una delle ultime uscite targate oblivion classics prossimamente vi farò vedere altri video sempre dedicati all'oblivion ad esempio uscito anche intruders quindi tenete sempre sott'occhio il canale perché a breve ne vedrete delle belle grazie ancora e al prossimo video ciao 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 ciao